Nella settimana che ha preceduto la Pasqua si è disputato in Liguria il Torneo delle Regioni, classico appuntamento annuale della Lega Nazionale di Lettanti. Ebbene, a fine torneo, delle quattro categorie in campo, due finali sono state vinte dalla Lombardia, femminile e Under 17, e due dal Piemonte, Under 15 e soprattutto la categoria Principe della Manifestazione, l'Under 19. Tra i convocati per l'Under 19, provenienti dal Gerone A di eccellenza, c'erano anche D'Ambrosio Luigi, Bule Bellinzago, Ferrari Enzo, Verbani a calcio, il portiere Mersini Luca e Lischetti Lorenzo, entrambi dell'Accademia Borgomanero. E' proprio il classe 2006, Lombardo di nascita, Lorenzo Lischetti, l'eroe della settimana. Licio Russo e Massimo Storgato ci hanno visto bene a tempo debito. Per non essere di parte, riferiamo quanto scritto da un giovane collega in occasione della seconda giornata, gara contro l'Umbria. Una giocata sontuosa di Lischetti fa respirare il Piemonte e scalda l'entusiasmo sulla tribuna. Ruleta di classe, finta di corpo, un'altra Veronica. Questa è la ricetta perfetta per evidenziare la condizione del giocatore. Il Piemonte vince 2-1 grazie a una prestazione corale e alle giocate del suo trascinatore Lischetti, che sblocca la sfida dal dischetto e illumina il campo con giocate favolose. Lischetti, che per onor del vero è in prestito dalla Varesina, Serie D, Girone B, aveva segnato anche nella gara d'apertura contro la Basilicata e segna anche nella terza partita, decisivo il suo gol contro la Toscana, spedendo avanti la squadra. Ma il ragazzino si fa espellere nel corso del match dei quarti di finale, vittoria per 2-1 sulla Sicilia e in un disputa alla semifinale contro le Marche. Allora torna in cattedra Enzo Ferrari del Verbania, che l'anno prima aveva vinto a suon di gol il trofeo della categoria inferiore e anche lui in classe 2006. Ferrari va in rete nell'1-1 che porta il Piemonte ai calci di rigore, vinti poi contro le Marche e che spediscono i ragazzi di Russo in finale, dove torna Lischetti, che fa gol e assist e diventa anche capocannoniere della manifestazione, insieme al giocatore dell'Emilia Romagna Frimpong.